Ciao a tutti ragazzi, purtroppo questo non è un video scherzoso, non è un video divertente, non è un video che volevo fare e non voglio guadagnarci su questo video, non voglio assolutamente neanche monetizzarlo per farvi capire perché magari potrebbe pensare qualcuno che lo faccio per soldi fare questi video così per attirare Sono stato costretto a fare questo video diciamo per pararmi un secondino il culo perché youtube mi sta per chiudere il canale o probabilmente me lo chiuderà, non è sicuro Prima di iniziare il video vi prego di andarvi a iscrivervi nel mio secondo canale che qualora succedesse qualcosa raga ho il secondo canale, riprendo sul secondo anche se attualmente nel secondo faccio vlog, quindi ragazzi vi prego il primo link in descrizione, andate a iscrivervi tutti Che è successo? Io per ora mi trovo a Milano, stasera faremo una live streaming, purtroppo raga youtube mi ha inviato una segnalazione, tra virgolette una email che raccontiamola dall'inizio, diciamo che un ragazzo ha pubblicato le mie storie su youtube, storie che ho fatte e che ho tolto subito ma purtroppo i bambini devono reccare per creare flame e tutto, vabbè Ho creato queste storie su youtube, io e le mie ragazze ci siamo lasciati insomma, che praticamente poi era scoppiato un casino allora abbiamo detto guarda togliamo tutto, purtroppo questa persona ha dovuto reccare il tutto e amen ho contattato questa persona chiedendogli di toglierlo, di togliere queste storie e lui mi ha detto no allora ho inviato una segnalazione a youtube dicendogli guarda qua c'è la mia faccia, non autorizzata da me e youtube sapete cosa mi ha risposto ragazzi? Mi ha risposto che sto facendo azioni fraudolente, azioni che non si possono fare e quindi mi ha detto che il mio canale se non risponderà a quelle mail sarà chiuso entro 7 giorni l'email in questione è questa che adesso vi farò vedere, non mi va di editare il video raga, non mi va di fare nulla davvero perché non ho voglia io sono qua per ora Salve Salvatore Sardo, temiamo che alcune delle informazioni e le tue richieste di rimozione possano essere fraudolenti ti ripresenta che youtube riceve numerose richieste fraudolenti di rimozione per violazione del copyright e che prende molto serio l'abuso, insomma dichiaro di essere, hai dichiarato di essere autorizzato hai dichiarato che sai che il tuo account youtube potrebbe chiudere se ne fai abuso se non rispondere a queste mail in 3-7 giorni il tuo account youtube potrebbe essere chiuso per evitarlo ritira tutto ho ritirato il tutto raga, non mi sto qua a far vedere l'email originale perché ci sono i codici e quindi potete risalire a tutto raga il video eccetera, a me non va quindi vi prego di stare un attimo calmo l'unica cosa da fare è iscrivervi al mio secondo canale davvero perché sono un po' disperato a questo punto raga, che è successo? io ho risposto, ho detto tolgo la rimozione del copyright e loro mi rispondono salve grazie per la sua risposta, la tua richiesta di rimozione non verrà elaborata cioè loro mi dicono di rimuoverlo però poi non me l'accettano se riterremo che eventuali altre due richieste di rimozione rientrino in un comportamento fraudolenti potremmo decidere di chiudere il tuo canale youtube senza avvertimento allora io ho risposto e ho detto guarda se permettete nel seguente video è presente alla mia faccia quindi non ho assolutamente fatto richieste fraudolenti io mi trovo in questa condizione youtube potrebbe chiudermi il canale da un momento all'altro raga perché youtube può, l'ha fatto, lo fa, youtube ciò che controlla queste cose è un bot e non sa neanche, non so chi l'ha programmato questo bot perché fa veramente cagare cioè è assurdo che io non posso segnalare un video dove è presente la mia faccia un video dove va a intaccare la mia vita privata è assurdo ma vabbè siamo qua alle mani di youtube ovviamente lavoriamo con un'azienda doc ecco perché vi prego di andarvi a iscrivervi al mio secondo canale questo video vi ripeto non verrà monetizzato vi prego un attimo di capirmi vi... non lo so lanciate qualche hashtag voi se vi va non... perché davvero sono per ora distrutto noi ci vediamo in live streaming questa sera speriamo che non accada null'animale l'unica cosa che vi chiedo per favore è di andarvi a iscrivervi al mio secondo canale e di seguirmi anche su twitch raga su twitch il secondo canale sono le nostre uniche speranze per continuare quindi vi prego il canale potrebbe chiuder potrebbe essere chiuso da un momento all'altro raga grazie mille per avermi ascoltato sono un po triste perché sono triste raga chi non lo sarebbe sono per ora a casa del mio amico rimoldigno stasera ci becchiamo in live streaming grazie per avermi ascoltato ripeto video non monetizzato ma video fatto a scopo di farvi capire perché io sono... non so che fare raga cioè youtube è sovrano e dobbiamo stare alle loro regole anche se non c'entra nulla grazie mille ragazzi alla prossima dal mattettutto anche se un po' triste ci becchiamo stasera in live streaming vi aspetto su twitch e sul secondo canale che trovate i link in descrizione un bacione raga grazie a tutti